Oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo parlato di inserimento lavorativo delle persone con disabilità visiva. Il titolo del convegno già era abbastanza emblematico, abbiamo parlato di norme, perché è giusto conoscere le norme che favoriscono l'inserimento lavorativo dei disabili visivi, abbiamo parlato di potenzialità, perché anche le persone che non vedono o vedono male hanno grandissime potenzialità, oggi ancora non troppo sfruttate. Abbiamo parlato di esperienze, abbiamo dimostrato quindi che anche con la disabilità visiva si possono fare dei lavori e si possono anche raggiungere dei lavori dirigenziali. Abbiamo parlato di opportunità, perché abbiamo voluto dimostrare che anche per le aziende l'assunzione di un disabile visivo può essere un'opportunità di crescita.